Sì, cambiarla da dentro c'è stato anche tanto tempo e mi sembra che anche Renzi, che ora lo sento dire, è parlare di un'Europa dei popoli, quello che noi diciamo da sempre durante il semestre europeo, poco ha fatto però per cambiarla quando era guida dell'Italia. Un'Europa fatta come è ora, è un'Europa che non serve a niente, anzi è un danno per gli stati che sono all'interno. Il grande problema poi è anche l'Euro, abbiamo 19 paesi sotto un Euro che però poi si va a scontrare con salari completamente diversi, un mondo lavorativo basta pensare che abbiamo stati dove lo stipendio medio è 900 Euro, altri stati dove è 3.600 lo stipendio medio, per cui sicuramente bisogna rimettere mano a tutto e rimettere mano a tutto velocemente. Quello che dicevo prima, ad esempio anche con Podemos, ci sono una serie di segnali che non vanno sottovalutati o sottostimati perché magari non hanno avuto il risultato che si pensava, perché comunque sono dei segnali molto forti e sottostimarli o sottovalutarli non mettendo poi mani realmente ai problemi che quest'Europa ha, perché ce li ha. Lo vediamo ovunque, lo vediamo nei voti, nei voti delle amministrative, in questi voti, lo vediamo in tutto quello che sono i problemi delle classi soprattutto più povere, perché anche nel voto abbiamo visto che le persone che sono andate a votare che sentono un disagio forte verso quest'Europa sono proprio i ceti quelli fra virgolette più bassi. Insomma che hanno premiato indubbiamente il Movimento 5 Stelle, abbiamo analizzato poi davvero le elezioni passo passo in ogni quartiere, pensiamo anche alla capitale dove Virginia Raggi ha fatto incetta di voti particolarmente nelle periferie. Quello che le chiedo però, non pensa che la stragrande maggioranza degli italiani voglia comunque restare in un'Europa che comunque delle regole certe le dà, Borgonzoni? Un'Europa diversa va benissimo, non è che la Liga Nord voglia uscire dall'Europa a tutti i costi, è l'Europa così che non va bene perché l'Europa così di certezze ce ne ha date poche, ci ha dato più che altro dei diktat, degli obblighi, ci ha tagliato e ci fa vivere peggio di come vivevamo prima e così è anche l'Euro. Io voglio ricordare che prima dell'Euro l'Italia era uno degli stati con lo stipendio medio fra i più alti d'Europa ora è fra i più bassi, per cui fatta così con la velocità e le misure che vengono messe in campo ora non è sicuramente un vantaggio, anzi è uno svantaggio per l'Italia e non solo per l'Italia. Per cui va rivista, ma va rivista seriamente, non solamente come spot elettorale a Renzi ora che dice veramente cose che comunque la Lega sta dicendo da anni e lui che poteva, perché bisogna ricordarsi che la pattuglia che c'è in Europa mandata dal PD è ben più numerosa di quella della Lega, non ha fatto assolutamente niente.